Il 22 giugno del 1941 scatta l'operazione Barbarossa, ovvero l'invasione nazista dell'Unione Sovietica. L'impegno profuso in questa grandiosa operazione militare appare davvero imponente. 3 milioni e mezzo di uomini, 10.000 carri armati, 3.000 aerei. Ancora una volta la guerra lampo si incontenibile e ben presto cadono nelle mani dei tedeschi i paesi baltici, la Bielorussia, l'Ucraina. Tuttavia questa travolgente avanzata nazista intorno alla fine dell'autunno è destinata ad arrestarsi. Di conseguenza la guerra lampo si tramuta in una guerra d'usura nella quale si rivela decisiva la capacità di compensare rapidamente il logorio degli uomini e dei mezzi. Le ragioni di fondo che spingono Hitler ad attaccare l'Unione Sovietica appaiono molteplici. Primo, conquistare lo spazio vitale della Germania a danno dei paesi dell'est europeo. Secondo, i popoli slavi vengono ritenuti dei popoli inferiori. Terzo, l'Unione Sovietica è la patria del bolshevismo. Quarto, la Russia viene percepita come un serbatoio inesauribile di materie prime indispensabili per portare avanti questo gigantesco sforzo bellico. Infine Hitler si convince, così come Napoleone, che l'unico modo per piegare definitivamente la resistenza inglese è quello di soggiogare la Russia. Perché? Perché solo così verrà meno la speranza di un possibile futuro intervento militare russo. In una prima fase la Russia appare del tutto impreparata. Stalin si fa cogliere di sorpresa, nonostante le soffiate che arrivano dall'intelligence anglo-americana. Stalin ritiene che si tratti di voci fatti circolare ad arte per seminare discordia fra i due fermatari del patto di non-aggressione. La convinzione assoluta di Stalin è che finché in piedi l'Inghilterra è impossibile che Hitler attacchi la Russia. Perché? Perché finché in piedi l'Inghilterra è in piedi l'incubo della guerra su due fronti. In secondo luogo le mostruose purghe staliniane hanno fortemente indebolito la catena di comando dell'armata rossa. E però la Russia con caparbia determinazione riuscirà a rialzarsi. Cerchiamo di comprendere quali sono le motivazioni fondamentali di questa grandiosa capacità di resistenza del popolo russo. Allora, in primo luogo Stalin riesce a mobilitare il sentimento patriottico del popolo russo. Secondo, il sostegno alimentare ed economico della Gran Bretagna. Terzo, la capacità di riorganizzare la produzione industriale in modo estremamente puntuale, spostando l'industria bellica, l'industria pesante, molto a est, fuori dal raggio d'azione della versione militare nazista. E poi c'è il punto cruciale, quello decisivo, e cioè la Russia si oppone a Hitler utilizzando la stessa tattica che si era rivelata vincente con Napoleone, cioè la tattica della terra bruciata. I russi sfuggono a una strena battaglia campale decisiva con il nemico e preferiscono arretrare, lasciando dietro di sé terra bruciata. In questo modo attirano le forze occupanti all'interno dell'immenso territorio e dell'immenso inverno russo il nemico, provocandone da rovina. Perché? Perché non è possibile allungare all'infinito la linea dei rifornimenti. In sostanza l'ambiente duro è in ospitale, il gelido inverno, la guerriglia di disturbo dei partigiani russi. E questi spazi infiniti rendono impossibile un collegamento adeguato e costante fra le retrovie e la prima linea. Non è possibile combattere in sostanza senza carburante, senza munizioni. Si tratta di un fattore frenante decisivo. Nell'estate del 1942 Hitler, che ha ormai esautorato i suoi più alti ufficiali e ha preso il potere in prima persona, decide di rivolgere le sue mire espansionistiche nei confronti di Stalingrado. Si tratta di un punto nodale della difesa russa e della porta d'accesso alle cospicue riserve energetiche del Caucaso. La sesta armata, guidata dal generale Paolus, forte di 300.000 uomini, grazie a un'ampia manovra accerchiante, cinge d'assedio la città di Stalingrado. Nonostante gli spietati bombardamenti aerei nazisti, i soldati russi, ma anche gli operai, i cittadini, i civili russi combattono casa per casa, maceria per maceria, contendendo animosamente ogni centimetro di terreno al nemico. Finché una poderosa controoffensiva russa ribalta la situazione, trasformando l'assediante in assediato. Dopo circa sei mesi, nel febbraio del 1943, i tedeschi si arrendono, contravvenendo agli ordini di Hitler di resistere a oltranza, sfiniti dalla fame e dal freddo, ridotti ormai a sole 90.000 unità. La battaglia di Stalingrado, forse la battaglia più grande della storia umana, è destinata a cambiare il corso della campagna di Russia e probabilmente il corso dell'intera guerra. Perché si tratta del simbolo della riscossa. Da lì parte una inarrestabile controoffensiva sovietica, guidata dal generale Zhukov, che si fermerà solo a Berlino, seppellendo sotto un cumulo di macerie il regime e l'ideologia nazista.